Ancora caos a Torre del Greco sui rifiuti, soprattutto per quanto riguarda gli ingombranti. Chiuso il centro di raccolta alla Santissima Trinità o almeno aperto solo per determinate tipologie di rifiuti. I torresi sono confusi e non sanno bene dove e come conferirli. Sì, in effetti ci sono stati una serie di disservizi purtroppo dovuti a una comunicazione a noi pervenuta soltanto venerdì scorso dove la ditta Buttle ci informava che non aveva più intenzione di avere quel punto aperto per una serie di problematiche derivanti dalla locazione di ingombranti al di fuori del sito. Quindi cittadini che andavano a sversare a tutte le ore anche in orari non consentiti che ingombravano tutta l'area non autorizzata e quindi questo comportava poi una serie di problemi. Ci comunicava con scarsissimo preavviso dal venerdì al lunedì che questo centro sarebbe stato chiuso e quindi anche una sorta di difficoltà per noi amministratori a trovare una soluzione alternativa. Abbiamo chiesto quindi una proroga di questo servizio affinché non si creasse il caos cosa che poi è avvenuta ugualmente perché poi tra l'autorizzare e non autorizzare quel punto ha fatto sì che ci fossero una serie di cartelli e quindi una disinformazione per coloro che andassero lì a depositare ingombranti. Speriamo però nei prossimi giorni di trovare comunque un sito alternativo perché quello sarà un sito provvisorio. non potrà avere una capienza tale da poter ospitare tutti gli ingombranti che purtroppo vediamo ogni giorno su Torre del Greco. In questi giorni io vedo materassi ovunque, vedo veramente traslochi fatti in punti desolati e abbandonati della città. La cosa è vergognosa, è scandalosa e va risolta. Va risolta con telecamere, va risolta con i controlli. L'altro giorno proprio è stata smontata una telecamera di proprietà del Comune, è stata sradicata, non so come abbiano fatto. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze, le nostre energie. Nei prossimi giorni cercheremo di fare informazione, tanto è vero che la settimana prossima, lunedì, stiamo organizzando per San Giuseppe alle Paludi un punto di incontro e di controllo. Quindi l'amministrazione affiancata dalla Polizia Municipale e da volontari cercherà di educare, di informare la popolazione affinché non avvengano questi sversamenti. Vogliamo spiegare ai torresi le modalità di conferimento, gli ingombranti, almeno in questo periodo? Gli ingombranti, finché non troveremo un sito alternativo, continuerà a essere la Santissima Trinità per gli ingombranti. Sempre il solito orario, dal lunedì al sabato, sempre dalle 8 alle 16, mentre i RAE vanno su prenotazioni, quindi chiamando il numero verde. Dobbiamo trovare siti che non siano troppo isolati, ma siano vicino al centro per dare un servizio e non un disservizio. Quindi molte volte ci troviamo in contrasto con magari scuole, ci troviamo con parrocchie, con associazioni anche residenti. Un po' come le isole ecologiche. Oggi tutti quanti le rivolrebbero, però io ricordo che a quei tempi molti lamentavano il fatto di averle vicino, perché comunque è un problema, ma è un problema se non fatte a dovere, seguendo regole, norme. Noi vorremmo realizzare un punto dove non si conferisca l'umido, ma soltanto ingombranti, materiali che non emanano cattivi odori, quindi non dovrebbero essere un problema laddove le andiamo a situare. Valuteremo i vari siti, sicuramente sempre nell'interesse del cittadino.